a te fermo Scusa, Gian Domenico, sono a pezzi. Non preoccupare, Tony, figurati. Ecco fatto. Restituita collana e orecchini. Bravo. Bravo. Bravo, un corno. Appena saputo che non ero millardario, Gina mi ha lasciato. E io te l'avevo detto, non fa per te. Tu ti sei talmente fissato con Carolina che stai facendo il cameriere, adesso hai pure i piedi che ti fumano e tu a me parli di sette donne se... ma fammo piacere. In effetti con questa storia del cameriere siamo andati un po' oltre. Se vuoi ti do una mano io a Villa Isabella. Risparmiati i piedi, intanto con Gina. Eh, no, no, no. Vedremo. Ah, che schifo. Grazie. Grazie.